La società di storia parli di terra di lavoro ha una lunga e radicata tradizione di studi dandeschi già subito dopo la sua nascita creò al suo interno nel 1956 il seminario di studi dandeschi col proposito di raccogliere una biblioteca specializzata tra le edizioni più pregiate ne presentiamo qui quattro tutte legate ad eventi celebrativi fondamentali la prima infatti pubblicata da Olski nel 1911 fu realizzata per il cinquantenario dell'unità nazionale 1861-911 e fu curata da Gabriele D'Annunzio che oltre a dare la sua impronta stilistica nella raffinata formulazione del titolo vi antepose la sua prefazione ecco il titolo la commedia del divino Dante Alighieri da Firenze con la esposizione di Giuseppe Lando Passerini da Cortona prefazione di Gabriele D'Annunzio edizione monumentale in folio in soli 306 esemplari con cento illustrazioni tratte dall'incunabulo veneziano del 1491 stampato da Piero dei Piasi le immagini sono concordamente attribuite al Mantegna il nostro esemplare è il numero 287 e fu donato alla società di storia patria dal cardinale Bacci nel 1965 la seconda opera pubblicata dalla UTET è stata realizzata in un arco temporale più lungo si voleva prepararla per il centenario della morte di Dante cioè 1921 ma la crisi economica e sociale di quegli anni successivi alla Grande Guerra costrinse a ridurre il progetto e rallentare fortemente la pubblicazione voluta da Guido Biaggi il titolo la divina commedia nella figurazione artistica e nel secolare commento a cure di Guido Biaggi Passerini e Rostagno frontespizzi in rosso e nero specchio della pagina incorniciato di rosso il testo è circondato dai commenti illustrato con quattro tavole di cui tre ritratti di Dante il primo è preso dal manoscritto 1040 della biblioteca riccardiana di Firenze il più antico ritratto che si conosca di Dante gli altri due sono dai dipinti di Luca Signorelli e di Raffaello la mappa dell'inferno è tratta dal manoscritto 74 della Biblioteca Nazionale di Francia la legatura è in pelle la pubblicazione iniziata dal Biaggi fu interrotta per la sua morte nel 1925 continuata poi dal suo antico collaboratore Giuseppe Lando Passerini ed infine portata a termine da Enrico Rostagno nel 39 quindi durò 15 anni l'interesse del Biaggi si sposta dall'analisi filologica del testo dantesco alle rappresentazioni artistiche che esso aveva ispirato e ai commenti succedutisi nei secoli si tratta dunque di un lavoro di collazione delle numerose edizioni dantesche dal 400 in poi nonché di ricerca dell'iconografia del poema la terza e la quarta opera che presentiamo qui sono state pubblicate entrambe nel 1965 in occasione del settimo centenario della nascita del poeta la prima edita dal Poligrafico dello Stato in tre grossi volumi in folio è curata da Luigi Pietro Bono con una serie di miniature scelte da Sergio Samec Ludovici sono i maggiori esperti nella materia la seconda opera è pubblicata dalla Nuova Italia di Firenze è curata da Natalino Sapegno con i disegni di Antonio Anthony De Witt o Anthony De Witt come preferiva lui chiamarsi la felice situazione economica degli anni sessanta ha consentito di moltiplicare le iniziative culturali che hanno avuto spesso toni e forme sontuose convegni nazionali e internazionali pubblicazioni piccole e grandi produzioni artistiche esposizioni di iconografia dantesca e così via tra gli eventi di maggior rilievo nazionale è da annoverare il convegno promosso dal nostro seminario dei studi danteschi i cui atti furono pubblicati da Olski a cura di Pietro Borraro al convegno parteciparono i più illustri studiosi di Dante dell'epoca da Giuseppe Toffanin a Francesco Flora a Natalino Sapegno Salvatore Battaglia Giuseppe Petronio Mario Santoro eccetera nonché nuovi studiosi tra cui emerse il nostro Tommaso Pisanti